Siamo con Marco Viba, responsabile di export per Weltins & Grevensteiner. Siamo sempre nell'ambito della birra artigianale, della birra in bottiglia, della birra in lattina, quindi varie declinazioni di birra. Adesso ci facciamo raccontare qual è il loro stile e qual è la loro filosofia. Grazie, grazie. Sì, siamo felici di essere parte del buro di breuerice qui nel primo anno. La nostra storia è di circa 200 anni, una famiglia di Germania, in Sauerland. Sono felice di presentare la Grevensteiner e la Weltins Plus. La Grevensteiner è una bier specialità di Germania, non filtrati lager e non filtrati helles. E la nostra Weltins, la nostra Weltins, è il tipo di Germania pilsner style. Abbiamo l'opportunità di essere parte di questo buro di burocchia qui nel primo anno. E, sì, siamo felici di presentare la nostra brand a tutti i clienti qui nel Rimini Faire. E, sì, speriamo di essere parte di una parte successiva di Breuerice.